Speed Job Date mette in relazione chi cerca lavoro e chi lavoro lo può offrire. È un'iniziativa dedicata al turismo, qual è il bilancio della giornata? Siamo molto soddisfatti del risultato perché abbiamo con questa iniziativa chiuso la filiera di un servizio importante che diamo, che è quello della formazione. Quindi abbiamo fatto diversi corsi di formazione legate all'accoglienza turistica con oltre 50 allievi e questi ragazzi sono stati messi oggi in contatto con 20 imprese che cercavano occupati. Con molta trasparenza i ragazzi si sono aperti, hanno dichiarato le proprie ambizioni e soprattutto, siccome sono ragazzi molto giovani, devo dire che hanno tutti molta voglia di fare e questo mi sembra positivo. Quali sono i settori del turismo dove c'è maggior richiesta? Allora, nel settore del turismo noi siamo sempre in contatto con le attività della rete imprese alto terreno quindi che ci sono tutte le attività, servizi turistici, alberghi, affittacamere. C'è sempre di più la richiesta di personale qualificato. C'è una richiesta dell'attività di avere figure che non solo fanno accoglienza ma hanno una capacità di raccogliere le informazioni, di dare le informazioni, di conoscere il territorio ma soprattutto di gestire la parte cosiddetta revenue, quindi delle prenotazioni, delle camere guardando comunque la competizione dei competitor. Le iniziative di formazione, di messa in relazione tra chi cerca lavoro e chi cerca lavoratori non finiscono qui. Confartigianato ha in mente anche altre idee. Quale sarà il prossimo evento? Allora, abbiamo sicuramente altri eventi per quello che riguarda la formazione e il turismo. Subito per Pasqua ci sarà un nuovo corso di formazione, prevediamo 90 ore e coprirà tutto il settore del turismo. Altre iniziative che faremo per gli speed date sicuramente riguarda il settore del food quindi ristorazione, pizzaioli, cucina. Lunedì inizia sempre con noi un corso per la gelateria e in questo momento ovviamente in previsione dell'estate, in previsione della Pasqua, eccetera sono le processionalità che ci vengono richieste. Grazie.